Tu, quando inquadri una persona, puoi vedere esattamente come sta, se è contenta, se è felice. In più, immaginati di poter sapere che cosa pensa. Wow! L'altra sera era a cena con un amico che sta facendo da advisor, da consulente, a una startup che si occupa di chip che hanno dentro una specie di radar, ormai il radar è piccolino, dentro a questa specie di sensore, mettiamola così, che tu appiccichi da qualche parte e lui ti restituisce dei dati, ad esempio, sulla persona che hai davanti. A distanza ti può dire se quella persona ha un battito cardiaco accelerato e fare tutta una serie di valutazioni sul suo stato di salute, semplicemente così, sensorialmente. Mi ha molto affascinato questa cosa e mi spiegava tutte le applicazioni possibili a livello di medicina, di salute. Un altro esempio che mi faceva, pensate, nelle case di riposo, bisogna fare attenzione se magari una persona cade, inciampe cade, e questi mini radar, in sostanza, tengono d'occhio anche questa tipologia di spostamento. Non c'è grande, come dire, intelligenza dato, però è proprio un qualche cosa di fisico, monitoraggio fisico e monitoraggio di alcuni parametri, così a distanza. Allora, quando ho letto questo articolo di Nature, che è una ricerchina, un esperimentino, adesso lo chiamo così, magari è un esperimento storico, nella storia dell'uomo, però è un esperimento dove si cerca di leggere il cervello, di capire che cosa sta pensando una persona senza che questo lo dica. E in questo caso, nell'esperimento, le persone che si sono fatte sperimentare sono state lì con i cosi, i macchinari, gli elettrodi, tutte le menate, per tot di ore, stimolate con, non so, dei video, degli stimoli vari, e il macchinario cercava di capire che cosa la persona stesse pensando e poi si vedeva se ci aveva azzeccato o no. E sembra che ci azzecchia abbastanza bene. Ovviamente ci sono un sacco di errori, però lo scenario che si apre è un scenario veramente da fine di fantascienza manuale di report. Perché, se ci pensiamo, unendo queste due tecnologie, e pensando anche a Meta, ad esempio, che fa tutti gli studi per la realtà virtuale, per capire cosa stai pensando, le emozioni, in base alle tue espressioni, al tuo stato d'anime, eccetera, eccetera, perché per usare il tuo visore di realtà virtuale hai bisogno di avere più dati possibili per ricreare un'esperienza il più immersiva possibile. Per cui ci sono tanti studi e tante realtà che lo fanno. Immagino anche in Italia un sacco di centri super avanzati, però lo scenario che abbiamo davanti è uno scenario che fa riflettere, perché la possibilità di leggere nel pensiero della persona che hai davanti tramite l'utilizzo di una certa tecnologia diventa sempre più possibile. Facciamo finta che tra cinque anni abbiamo questa possibilità. Magari nel cellulare o quello che sarà, oggetto futuro, gli occhialetti, ta ta ta, tu, quando inquadri una persona, puoi vedere esattamente come sta, se è contenta, se è felice, a prescindere dalle sue espressioni, nel suo interno, dal suo stato di salute, poi, è dura e questo in più, immaginati di poter sapere che cosa pensa. Wow! E questo cambia tutto, altro che intelligenza artificiale. Qua parliamo di non avere più privacy, che tutti i pensieri sono pubblici. Wow! Non lo so, le relazioni finiranno da un giorno all'altro, perché se tu vieni, tutto quello che uno pensa in continuazione, di amicizia, di qualunque tipo di rapporto, non è che uno è sempre perfetto di pensieri sempre precisi. Onestamente dimmi la tua, perché io non ci avevo mai riflettuto su questo scenario. Magari verranno applicate tutta una serie di password di sicurezza, di sistemi di sicurezza del password, ormai non esisteranno più, però la cosa interessante è che devi proteggere la tua privacy, quello che stai pensando. Fino ad oggi quello che stai pensando è tuo. Tra un po', anche quello che stai pensando non sarà più tuo. Magari diventerà come i post sui social. I nostri pensieri saranno come i commenti sui social, sempre pubblici, accessibili, monetizzati da qualcuno. Onestamente, ha colpito sta cosa.